Stiamo andando a Bucca 7 Sì, non fate che roba una tipica giornata, una tipica giornata, un'autunale, 25-3 ottobre. Stiamo andando a Bucca 7 non c'è che è da vedere No, la sera si chissà, non fa tirugia, ma adesso si sa cadere a su, eh? No, ma è fuori! Ah, è fuori? Ma mi ha capito che sta fuori, è assoluta casa, fino a tre in fuori! E' quella preoccupazione di tutta? Si, che va, va porrendo! Si, che va porrendo! Si, che va porrendo! Si, che va, va porrendo! Si, che va, va porrendo! Sì, che va porrendo! Oh nooo... Sì, che va porrendo! Vieni, vieni, vieni! Ti ho visto che non vieni, eh? È viena sarte qua, va! Ma le robo. Ma più tardi! E che si bolla!